Okusai, che poteva dare l'impressione di una vita caotica e disorganizzata, era invece rigorosissimo per quanto riguardava la qualità e la perfezione dell'opera propria, ma ancor prima che nel senso tecnico in quello dello spirito, e si preoccupava costantemente di riuscire a infondere vita a ogni cosa che ritraesse. Da questo il punto che lui indica come meta dei suoi 110 anni, visse fino a 90 e, nonostante il suo parere contrario, chiaramente raggiunse questa meraviglia indiscussa dell'espressione artistica ben prima. Ma Okusai era anche consapevole del proprio limite, era consapevole della propria grandezza, e infatti disprezzava quasi tutti gli altri artisti, ma era consapevole del proprio limite nei confronti della grande pittura, della pittura con la P maiuscola, della pittura assoluta potremmo dire. E si racconta che una volta un allievo prendeva lezioni nel suo studio, e naturalmente era la figlia, la figlia OE, quella del disegno di cui ho parlato prima, che gestiva questi allievi così, che dipengevano per diletto. E questo allievo avrebbe confidato in questo episodio a OE che, insomma, non riusciva a controllare il proprio pennello, che temeva che non sarebbe mai diventato un pittore. Certo, anche se si misurava con Okusai non doveva essere molto facile. E OE, per rincuorarlo, gli avrebbe confidato che lo stesso succedeva anche al maestro, al suo padre, al grande Okusai, e avrebbe detto «Dall'infanzia non ha smesso di ricercare, e continua a ricercare anche ora, a oltre ottant'anni». L'altro giorno ha incrociato le braccia, piangendo disperato, e affermando che il pennello non obbediva alla sua volontà, e che non sarebbe mai riuscito a dar vita neppure a un gatto. E' la storia di tutti gli artisti, ma l'inizio del progresso. Non è forse proprio quando ci si rende conto di non essere ancora capaci? E Okusai, che aveva ascoltato il dialogo, pare abbia esclamato «È proprio vero, è proprio vero». Quindi, questo episodio che viene riportato da uno dei primi biografi di Okusai, un francese che viveva negli anni 80 e 90 dell'Ottocento a Tokyo, e che l'avrebbe sentito proprio da colui che ne era stato protagonista, indica questo senso della ricerca continua assoluta di Okusai. Voglio leggervi ora un brevissimo racconto, uno schizzo, di un grande scrittore italiano, Giuseppe Puntigia, relativo a Okusai, che anche se non citato, mi vede in parte indirettamente coinvolto e causa di questo scritto, che fu pubblicato dal Sole 24 Ore il 3 novembre 2002. Vi leggo lo scritto di Puntigia. In un periodo di insperata liquidità, per usare un termine caro alle banche, ho acquistato un quindicennio fa alcune stampe di Okusai. Il paesaggio ukiyo e della pittura giapponese è qualcosa di diverso da un investimento. È una gioia che si rinnova ogni volta. Le ho collocate in sala, negli interstizi delle librerie, alle spalle di un tavolo che dovrebbe essere disponibile per i pranzi, e invece è gremito di pile di volumi. Un amico esperto di arte orientale, dopo aver mostrato un sobrio apprezzamento per le stampe, ha puntato il dito contro le finestre del balcone. La luce non va bene. Perché? Ho chiesto con un presentimento gelido quello che proviamo se il medico esita nella diagnosi. Perché la luce, a lungo andare, le schiarisce. Da allora, appena il sole sorge nella mia via, calo le tapparelle. La sala piomba in una semioscurità che favorisce la meditazione, non meno che il sonno. La collaboratrice Eritrea si muove con aria improvvisamente deferente, come se la sala si fosse trasformata in quella di un museo, e le stampe campeggiano invisibili dietro i vetri protettivi, anche se non godono ancora di quelle condizioni che il mio amico considera ottimali, giacere orizzontali, in cassetti lunghi e profondi, di altezza minima, come quelli riservati alle cravate nei negozi di appigliamento. Così possono durare anche secoli. Questa mattina un sole sfolgorante dopo settimane di pioggia ha trasformato il balcone in una serra di luce. Mi precipito a premere il pulsante delle tapparelle e do un'ultima occhiata a Ocusai, prima che piombi anche lui nella semioscurità. Ma perché un'ultima occhiata? Perché sono pazzo? Questa luce impiegherà non meno di alcuni decenni per avere un'influenza minima sulle stampe. Quanti me ne rimangono? Dovrei rinunciare a questo sole miracoloso, a questa luce calma e calda, e non per vedere al meglio i colori di Ocusai, ma per precludermene la vista. Premo di nuovo il pulsante e le tapparelle invertono la rotta. La corroboratrice Eritrea si ferma, sorride con aria esperta e complice. Controlla se il tasto funziona? No, le dico. Controllo se funziona la testa. Buonasera e ci risentiamo la settimana prossima su Radio 2 alle otto della sera. Alle otto della sera Chiocciolarai.it Per riascoltarci www.radiodue.rai.it